Musica Professoressa Alberghina, nel suo libro Per comprendere la complessità biologica le afferma che dallo studio delle leggi della complessità possono nascere approcci molto semplici per risolvere i problemi, ecco, che cosa vuole intendere? Ma intendo la stessa logica con cui si può aprire una cassaforte, una cassaforte è certamente complessa dei ladri che vogliono forzare una cassaforte magari sono costretti a usare lance termiche o cose di questo genere ma se abbiamo la combinazione la cassaforte si apre in un minuto cioè la combinazione è la legge che governa l'apertura della cassaforte quindi io sono convinta che noi avremo sempre un mondo complesso verso cui rivolgerci ma una umile e profonda conoscenza della realtà potrà portarci anche a trovare soluzioni semplici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti